Dal turismo religioso a quello culturale, dalle mete enogastronomiche alle splendide coste. La Regione Campania offre uno tra i più completi itinerari turistici del mondo, da valorizzare come volano di sviluppo dell'intero territorio, anche e soprattutto attraverso i grandi eventi. In questa direzione va l'approvazione della delibera ingiunta a Palazzo Santa Lucia, presentata alla stampa per lo stanziamento di 16 milioni di euro di fondi, dopo la bocciatura dovuta della precedente proposta di finanziamento troppo esigua, come fa sapere il neoassessore ai beni culturali Pasquale Sommese, nonostante l'apprezzamento per il lavoro del suo predecessore Giuseppe De Mita. Era annunciato da tempo e non c'è mai stata nostra intenzione di non portare avanti quello che noi riteniamo una grande occasione degli eventi, ma soprattutto nella consapevolezza del grande lavoro che il predecessore De Mita aveva messo in campo, ma anche nell'impossibilità delle poche risorse che in quell'occasione nel bilancio non c'era possibilità, e credo che un milione e mezzo per la misura 1.9, un milione e mezzo per la misura 1.12 erano insufficienti a poter mettere in campo una risposta adeguata di valorizzazione di questi enormi patrimoni che noi abbiamo di artisti, di paesaggio, di beni culturali, della costa. Adesso di che cifre parliamo e quali saranno poi gli eventi principali? Oggi, in virtù del POR approvato un mese fa, due mesi fa, la Regione Campania rispetto al passato, per la capacità di spese, quindi l'occasione di poter affrontare, in questa occasione, con più congrue e più adeguate risorse, a poter dare risposte efficiente su questo settore. Ecco perché noi, ripeto, andando avanti su quella programmazione che l'Aggiunta Caldori e l'assessore De Mita avevano messo in campo, procediamo e non abbiamo potuto affrontare anche questi pochi mesi, maggio, giugno, luglio e agosto. Si parte a settembre con l'approvazione di oggi, lunedì, esecutiva la delibera e quindi gli uffici procederanno ai bandi e daremo la possibilità anche ai tanti operatori di poter programmare le risorse e gli eventi in modo da poterli inserire anche nelle loro politiche dei pacchetti da vendere a livello internazionale, gli eventi che la Regione mette in campo con risorse più adeguate. Parliamo dal settembre 2013 al primo gennaio 2015 di ben 16 milioni, quattro misure, obiettivi che vengono messi in campo e c'è un anno, un anno e mezzo per poter programmare tutti gli eventi da quelli infernali a quelli estivi, primaverili e quindi una grande stagione di eventi per la Regione Campania a promozione e valorizzazione di questo grande museo aperto che è la Regione Campania. Grazie a tutti!